In questa domenica è l'Evangelista Matteo, ancora una volta, a presentarci una pagina di Vangelo che conosciamo. La tradizione ce l'ha tramandata, ce l'ha trasmessa attraverso appunto questo comandamento, che è il comandamento dell'amore, che vuole quasi porre un segno sulle nostre relazioni, sulle relazioni come le viviamo. Questo comandamento fa in sé tutta la legge, quella antica, quindi quei precetti, quei comandamenti che Israele un po' ha fatto suoi. Pensiamo a Israele come quella grande legge che appunto trasmette tutti i precetti, 613 precetti, tutti da osservare. E Gesù, con questo comandamento, con la sua vita, fa in sé tutta la legge, la porta a compimento. Amare Dio, amare Dio e porre Lui sopra ogni cosa, amarlo con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, con tutto il cuore, è riconoscere l'importanza nella mia vita, nella nostra vita, la sua unicità. È quella presenza buona che dà un segno alle nostre relazioni che viviamo quotidianamente. E appunto la seconda parte di questo comandamento, che è simile alla prima, però differisce in qualcosa. Appunto, amerai il tuo prossimo come te stesso. Sembra andare a completare un po' il primo. E' bellissimo perché dà quel senso di amore fraterno, amore fraterno appunto, quell'esperienza che va a richiamare, che va a sanare l'esperienza di Caino e di Abele, quel fratricidio, quell'odio fraterno. E invece Gesù va a porre proprio lì il suo segno, che è quello della comunione, che è quello della relazione buona. Amore tra fratelli, amore con il proprio prossimo. A volte facciamo fatica ad amare, lo dobbiamo ammettere. Facciamo proprio fatica ad amare a volte. Perché è difficile, perché è scoraggiante, perché ci sono delle tensioni, perché ci sono delle indisposizioni. Perché magari quella persona mi ha fatto un torto. Ma l'amore va ben oltre. Va ben oltre. E ha una ricompensa fantastica. E' bello appunto vedere quanto questi due comandi vanno insieme. Imparare ad amare Dio è imparare ad amare i fratelli. E viceversa. Viceversa. E' importante questo viceversa. Perché è amando i fratelli che amo Dio. E' amando Dio che amo i fratelli. E allora mi vengono due domande molto semplici. Come vanno i miei rapporti? Come va il mio rapporto con Dio? I miei rapporti con i fratelli? Con chi mi sta accanto? Con chi mi sta accanto? Grazie a tutti.